Mi chiamo Dias Noghera Marzio, come diploma ho di venditore, però il lavoro che avevo prima era come autista e magazziniere. Mi hanno mandato qua a fare questo programma occupazionale, agli inizi era un po' difficile per me, però dalla fine vedo che mi trovo bene, la gente è bella, a quanto ho sentito parlare sono contenti di me, quindi vuol dire che ho dato del positivo per la Caritas. Il fatto di stare a casa è che prima un po' il trisco, metto su chiri e poi quando ricomincio a lavorare è abbastanza dura perché non sei più abituato, sono tre mesi che non facevo niente e ricominciare a risvegliarmi a un orario diciamo decente era un po' faticoso i primi giorni. Quando sono arrivato qua ho visto che veramente danno nuova vita ai mobili che la gente dà per morta. Il lavoro mi piace perché comunque è variato, non sei sempre come adesso sono qua a sistemare dei quadri, magari fra un'ora devo smontare un mobile o magari pomeriggio vado a consegnare della merce, quindi non è sempre la stessa cosa, varia molto, non è noioso come lavoro. Il magazziniere autista sarebbe per me l'ideale. Il magazziniere autista sarebbe per me l'ideale.